Camer, ristrutturazioni di interni, via Aldomoro 38, Sondrio. Una giornata di festa e di scoperta, oltre che occasione per fare il punto circa le fasi di ristrutturazione del santuario dedicato alla Madonna di Gallilaggio, che il 29 maggio del 2018 fu miracolosamente risparmiato dalla frana, distaccatasi dalle pendici sovrastanti in luogo di culto, risalenti al 600, nel territorio comunale di San Giacomo Filippo. La scorsa domenica, presso l'oratorio di Campodolcino, l'incontro tra i discendenti di emigrati che da San Giacomo mossero alla volta degli Stati Uniti, presenti in Val Chiavenna per la Fifth Family Heritage Reunion, assieme al Vescovo di Como e Sondrio, Monsignor Oscar Cantoni. Con loro Don Andrea Caelli, parroco di Chiavenna, Davide Trussoni, attuale presidente della comunità montana Val Chiavenna, ed Enrica Guanella, sindaco di Campodolcino. Tornano in Italia per scoprire le proprie origini. Da una nazione, l'America, che ha sempre accolto più o meno calorosamente quelli che si sono recati là per lavoro. Dei circa 70 discendenti di emigrati d'oltreoceano facenti parte del gruppo, 25 quelli presenti all'incontro durante il quale è trapelato il cronoprogramma delle prossime fasi di restauro del santuario. Restauro in parte finanziato da Regione Lombardia, con fondi per un totale di 3 milioni di euro, che verranno distribuiti tra il 2020 ed il 2021, a fronte di una stima totale dei lavori quantificata in 6 milioni di euro, e che vede altresì un impegno attivo da parte della comunità montana Val Chiavenna, di concerto con la Regione. Si è salvato il simbolo della nostra civiltà, la nostra valle c'era, ma ha bisogno di essere messo a posto. L'attore terzo ma decisivo di questa fase è quello rappresentato dalla Diocesi, che in interazione con fedeli e cittadinanza, ed attraverso una serie di iniziative in onore della Madre della Misericordia, tra queste la costituzione di una commissione diocesana, ha attivato una serie di azioni allo scopo di sensibilizzare al recupero del santuario tramite raccolte fondi, esposizioni, cura e messa in mostra di alcune opere tratte in salvo dalla Chiesa. Si sta facendo tutto il possibile, chiaramente i tempi sono determinati non dalla commissione, che è una commissione diocesana, ma sono determinati da una serie di elementi. Primo, la pulitura del vallo, che avrà inizio un altro anno, l'appalto è appena partito ora, per cui occorrerà una tempistica relativamente lunga, lungo l'anno prossimo, è in mano alla regione e alla comunità montana. Mentre il restauro solo del santuario richiederà almeno, la prima parte, il primo lotto, richiederà almeno un anno e mezzo, due. La riunione delle famiglie emigrate dalla Val San Giacomo, giunta quest'anno alla sua quinta edizione, è stata preceduta dalla celebrazione della Santa Messa presso la parrocchiale di Campodocino, ufficiata dal Vescovo di Como e Sondrio, Monsignor Oscar Cantoni. Io sono qui per portare consolazione e speranza a tutte le persone, perché il santuario possa rifiorire ed essere un luogo di riconciliazione, di pace e di misericordia. Grazie.